Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro. Gli strumenti per raccontare la storia sono molteplici, sicuramente la radio è uno tra i più suggestivi, il taburo tribale per usare la definizione di McLuhan che in realtà poneva un confronto tra le radio audizioni oceaniche di Hitler e di Mussolini a confronto con i discorsi del caminetto di Roosevelt. Stasera parleremo di un programma radiofonico un po' dimenticato che però è stato riscoperto da Nando Fasce e che è un relatore molto conosciuto qua al Ducale, non solo perché è un curatore scientifico della storia in piazza ma perché ha avuto anche altre occasioni. Già docente di storia contemporanea e di storia americana ha riscoperto questa trasmissione radiofonica di cui appunto ci racconterà gli sviluppi e le celebrazioni propagandistiche in un'epoca molto come dire cruciale per la storia non solo americana ma per la storia internazionale. Buon divertimento e buon ascolto. Grazie a voi per essere qui. Cominciamo con un piccolo esercizio di immaginazione storica, portiamoci indietro esattamente di 80 anni fa, nel 1942, la sera di lunedì 28 settembre 1942 siamo negli Stati Uniti e siamo tra le tantissime famiglie che hanno un apparecchio radiofonico, più di due terzi delle famiglie americane all'epoca che hanno un apparecchio radiofonico e siamo tra le migliaia e decine di migliaia di persone che hanno preso l'abitudine da qualche anno, il lunedì sera alle 20, di sintonizzarsi sul canale NBC. E sentiamo che cosa ci sarebbe capitato di ascoltare. Ripeto, un piccolo esercizio di immaginazione storica e anche un piccolo esercizio di pazienza perché sentiamo parlare solo per due minuti questo anglo-americano dal quale però emerge una cosa, emerge che c'è coinvolto un grande attore del quale sentiremo anche molto brevemente l'inconfondibile voce. Grazie a tutti. Questa è la voce del presentatore che presenta a sua volta Orson Welles Siamo in Messico nel 1867 On a morning in June 1867 The ambassadors of all the crown governments of the world filed into the presidential palace in Mexico City Standing before the door of his office Mexican president Benito Juarez stolidly listens to the prepared speeches of the diplomats Ecco, di che cosa si trattava? Si trattava di questo programma che si chiamava Cavalcade of America e che andava in onda da circa sette anni aveva cominciato le sue trasmissioni nell'ottobre del 1935 Come vedete in bella evidenza, questa era la 298esima puntata tutte le settimane Come vedete in bella evidenza c'è lo sponsor DuPont perché stiamo parlando di broadcasting, di radio negli Stati Uniti e la radio negli Stati Uniti quasi da subito è prevalentemente se non esclusivamente commerciale, sponsorizzata dunque lo sponsor è DuPont il programma si chiama Cavalcade of America e come diceva il titolo stesso era concepito come una cavalcata di pagine gloriose di grandi piccoli eroismi all'insena della civiltà e della crescita scientifica e umana intesi come sinonimo di America cioè di Stati Uniti Durava circa mezz'ora e nel caso specifico però in questa 298esima puntata che si chiamava Tuono dalla montagna Thunder from the mountain avete sentito il tuono ecco l'America era intesa in senso più ampio a inglobare il Messico al quale la puntata era dedicata con l'obiettivo concentrato lo abbiamo sentito sull'eroe della sua rinnovata indipendenza Benito Juarez Benito Juarez per due volte è libero al Messico la prima volta dal despoto autoctono Sant'Anna negli anni cinquanta e poi di fronte all'invasore li mandato da Napoleone Terzo Massimiliano d'Asburgo e la puntata è cominciata proprio con Massimiliano che è stato sconfitto militarmente a Cheretaro da Benito Juarez ecco e che lo ha fatto prigioniero e ci sono gli ambasciatori di tutte le potenze europee che si affollano presso il palazzo presidenziale nel quale Juarez dopo la vittoria si è reinsediato per chiedere la grazia per Massimiliano ecco lo abbiamo già anticipato ora in genere questi questi episodi questa serie ecco questa serie veniva interpretata da attori all'inizio comunque attori di belle speranze che erano destinati a una più o meno luminosa carriera in questo caso invece abbiamo già una star perché Orson Welles che vediamo qui ecco è già una star questa è una foto del 38 scelta non a caso perché quattro anni prima Orson Welles aveva fatto un'irruzione nelle case degli americani sempre via radio con il famoso programma La guerra dei mondi un programma che era basato su una resa drammaturgica del famoso romanzo di Herbert G. Wells ecco romanzo fantascientifico e come sapete questo aveva scioccato una parte consistente del pubblico americano entrando nella leggenda perché quelli che si erano sintonizzati su questo programma a programma iniziato no? Wells aveva anticipato che si trattava di un radiodramma che si trattava di fiction ecco chi lo sente senza aver sentito questa avvertenza data l'intensità dell'interpretazione di Wells e il fatto che fossero messi in mezzo una serie di radiogiornali che attualizzavano la vicenda narrata aveva fatto credere che i marziani stessero per arrivare sulla terra anzi fossero arrivati sulla terra panico ecco e ecco il Wells che aveva scioccato gli americani nel 38 tre anni dopo nel 1941 era salito alle cronache cinematografiche con il famoso Citizen Kane un film memorabile un film salutato subito come un capolavoro ma al tempo stesso un flop al botteghino per la violentissima propaganda che gli aveva scatenato contro il grande magnate dei giornali californiano dei giornali e in generale proprietario dei media William Randolph Hearst che era il modello per il protagonista di questa storia per Citizen Kane no? ecco col quale appunto Wells che era molto preoccupato dell'influsso dei media molto preoccupato delle possibili manipolazioni aveva cercato di denunciare il pericolo di una sorta di dispotismo mediatico l'autore l'abbiamo sentito accennare no? quindi il protagonista nel senso che legge e fa da voce narrante e al tempo stesso fa da interpreta Benito Juarez è Orson Wells ora l'autore del testo di questo sceneggiato di questa puntata l'abbiamo sentito un po' accennare è un'altra figura all'epoca non ancora di successo ma destinato molto presto a un grande successo un coetaneo di Wells Arthur Miller sono coetanei sono nati entrambi nel 15 e Miller avrà un grande successo nell'immediato secondo dopoguerra mondiale infilando infilando uno straordinario filotto di successi che vanno da morte di un commesso viaggiatore del 49 eccolo qua Miller ecco da morte di un commesso viaggiatore del 49 al crogiolo del 53 a uno sguardo dal ponte del 55 all'epoca non è ancora famoso come come Wells ma ha con lui in comune un'altra cosa oltre all'età sono entrambi figure di punta molto impegnate di una straordinaria stagione di teatro popolare alternativo il cosiddetto teatro del fronte popolare molto vicino al piccolo ma decisamente molto impegnato ecco e che si fa sentire partito comunista statunitense ecco che fanno uno straordinario una straordinaria serie di spettacoli per il grande pubblico allora ma cosa ci facevano la prima domanda che sorge questi due intellettuali e uomini di spettacolo di sinistra dichiaratamente di sinistra in un programma sponsorizzato dai DuPont che erano notoriamente erano noti per le loro simpatie conservatrici e dietro questa domanda viene quella ulteriore di ma che cos'era questo programma come era nato che cosa rappresentava ecco e qui è partita la mia ricerca che si è svolta in gran parte negli archivi della DuPont molti anni fa un po' integrata in parte anche da qualche scorribanda nelle carte di Miller nelle quali c'è qualche traccia di questa esperienza mentre invece non ce ne sono nelle carte di Wells che peraltro sono sparse in vari posti e allora il programma come ho detto era nato nell'ottobre del 1935 ottobre 1935 e sia pure con un paio di brevi interruzioni andò avanti ininterrottamente per 18 anni fino al 1953 per un totale di 781 puntate ora era un programma che non poteva vantare la audience delle grandi soap tutti sappiamo la storia delle grandi soap operas che prendevano il loro nome dalle imprese di saponette che le sponsorizzavano ecco ed erano talvolta dichiaratamente comiche le sitcom altre volte avevano un carattere un po' tragicomico sempre erano dei serial andavano avanti per anni bene Cavalcade of America non ha quell'audience ha un terzo della audience di queste grandi soap opera però non bisogna dimenticare era un programma di storie e bisogna dimenticare che va comunque avanti per 18 anni e in questo si avvicina le soap perché l'età media delle soap di successo dei programmi seriali di successo era al massimo di circa 20 anni un motivo ulteriore dunque per prestarci un po' di attenzione per guardare dentro la scatola nera di questo programma che è un modo di fare storia che comporta diversi soggetti se ci pensate perché c'è uno sponsor c'è uno che scrive c'è un altro che interpreta anzi ci sono più persone che interpretano ci sono dei consulenti storici quindi è un prodotto in qualche modo frutto di un'azione collettiva di un'azione di un collettivo ecco anche se i vari esponenti hanno delle istanze hanno degli investimenti individuali emotivi e culturali decisamente diversi allora partiamo dallo sponsor ecco lo sponsor siamo nell'ottobre del 35 è questo signore questo signore è l'amor du pont secondo l'amor du pont secondo è l'esponente di una delle più importanti imprese della storia degli stati uniti una grande multinazionale la du pont e di una vera e propria dinastia una dinastia imprenditoriale che vantava all'epoca nel 35 oltre 130 anni di vita un caso decisamente raro negli stati uniti e tutto questo faceva sì che i du pont avessero in massimo grado quell'atteggiamento di forte senso di indipendenza di orgoglio di senso di essere svincolati dai comuni mortali dall'opinione pubblica e soprattutto dai poteri pubblici che ha caratterizzato in notevole misura la vita delle grandi imprese statunitensi ma che nel loro caso era particolarmente forte per due motivi uno appunto perché erano una dinastia venivano avanti dal tempo erano lì da oltre un secolo e due per l'eccellenza tecnica l'eccellenza tecnica fa sì che i du pont beh dopo essersi affermati e ci torneremo subito nella produzione militare cominciano essendo tra i pochi che sapevano produrre su larga scala la polvere da sparo vedremo poi grazie a che cosa bene dopo la prima guerra mondiale fanno una riconversione al civile che è assolutamente straordinaria perché di qui escono non solo le famose pitture per la casa io stesso ricordo da ragazzino il du cotone ecco il du cotone è du pont du pont company du cotone ma anche prodotti che compaiono negli anni venti e poi si affermano nei decenni successivi come il cellophane il cellophane è un'invenzione della du pont cioè non è il prodotto di una ricerca universitaria è il prodotto dei laboratori du pont che lavoravano anche in connessione con alcune università ma che avevano il loro laboratorio lo stesso negli anni trenta il nylon cioè la du pont vengono prodotti come il cellophane e il nylon allora tutto questo unito al senso dinastico ecco dà ai du pont una convinzione della propria forza decisamente pari e addirittura superiore a quella che già come dicevo nutrivano in genere i grandi imprenditori statunitensi ho parlato di dinastia i du pont da dove venivano venivano dalla francia erano una famiglia di nobili francesi nobili francesi nobilitati erano alti funzionari nobilitati da luigi sedicesimo ecco sopravvivono alla rivoluzione in quanto girondini ecco e poi invece hanno delle difficoltà sono famiglie di funzionari e nel frattempo erano diventati imprenditori hanno delle difficoltà sotto Napoleone con l'incipiente regime napoleonico nel primo ottocento si sentono a disagio perché ho detto che sono diventati imprenditori sono diventati imprenditori grazie al figlio del capostipite che si chiama Eleuther du Pont e che è l'allievo prediletto di Lavoisier è uno dei più bravi chimici dell'epoca di questo è a conoscenza Thomas Jefferson che ha conosciuto i Du Pont quando era ambasciatore a Parigi prima della rivoluzione francese e quindi quando Jefferson decide di dare i muscoli a quello che lui chiama l'impero della libertà cioè questa espansione statunitense verso ovest attraverso la conquista della Louisiana beh Jefferson sa che ha bisogno prima di tutto di una manifattura di polvere da sparo e poi di una struttura para anzi proto imprenditoriale capace di produrre munizioni armi si ricorda dei Du Pont si ricorda del giovane del giovane Leuter e soprattutto ha sentito che i Du Pont non beh stanno disamorandosi hanno sempre più fatica sempre più disagio nel regime napoleonico ecco ma lo sopportano e quindi gli fa l'offerta trasferitevi negli Stati Uniti trasferitevi negli Stati Uniti vi faremo delle condizioni speciali terre che vengono elargite molto facilmente e i Du Pont diventano i grandi produttori di polvere da sparo e di munizioni degli Stati Uniti a partire dal 1802 e poi come dicevo faranno una grande fortuna che cresce fino alla prima guerra mondiale e poi riconversione al civile da tutta questa storia ne deriva ai Du Pont un senso molto forte come dicevo della propria indipendenza della propria forza insofferenti verso l'opinione pubblica insofferenti verso il potere pubblico il che entra in collisione col clima del New Deal il New Deal vuol dire anche in notevole misura potere pubblico il New Deal vuol dire tentativi di razionalizzare il sistema produttivo coinvolgendo le imprese ma sotto un'egida di coordinamento che comprende anche dei funzionari pubblici il New Deal vuol dire contingentamento della produzione il New Deal vuol dire anche sia pure in maniera ancora cauta una qualche apertura verso il mondo sindacale tutto questo basta bastano i primi cento giorni per convincere i DuPont che il New Deal è il nemico avevano votato avevano sostenuto Roosevelt all'elezione del 32 come molti altri imprenditori perché veramente non si sapeva dove sbattere la testa ma dopo i primi cento giorni di tentativi per quanto molto zizzaganti di riforme di Franklin Delano Roosevelt beh i DuPont cominciano una vera e propria battaglia propagandistica contro il New Deal in nome della libertà d'impresa e la situazione però si fa presto piuttosto difficile per loro perché nel 1934 finiscono nel mirino ecco e qui lo vedete che la ModuPont sta rispondendo a una commissione una commissione istituita nel 1934 da questo senatore repubblicano progressista del North Dakota che si chiama Gerald Nye Gerald Nye come molti progressisti dell'Ovest è da un lato antimonopolista se potresse beh insomma li scioglierebbe i grandi monopoli e dall'altro non è insensibile alle campagne pacifiste delle militanti del Women Peace Party e dunque nel 1934 monta mette insieme una clamorosa inchiesta sui super profitti della prima guerra mondiale e i DuPont che durante la prima guerra mondiale hanno pesantemente lucrato e vi posso garantire avendo visto le loro carte senza pagare le tasse con la vendita di armi di munizioni eccetera finiscono nel mirino di questa inchiesta paradossalmente peraltro perché proprio in una fase in cui sempre più hanno convertito al civile la prima reazione dei DuPont è quella da DuPont ma cosa ci rompono le scatole questi ma noi siamo siamo il fulcro degli Stati Uniti ma ci mettono in condizione di dover rispondere a un senatore poi però sotto la spinta di un manager interno all'impresa del vicepresidente che non è un membro della famiglia è più giovane e che è molto sensibile alle questioni dell'opinione pubblica Walter Carpenter capiscono che bisogna fare qualcosa capiscono che non ci si può limitare a chiudere la bocca come era tipico dei grandi imprenditori soprattutto fino al primo novecento a fare spalluce e beh qui c'è una commissione e qui c'è un'opinione pubblica che è decisamente contraria ai super profitti di guerra e che vede nei DuPont per usare il titolo di un libro che esce all'epoca dei mercanti di morte Merchants of Death di fronte a questo allora i DuPont anche se alquanto a torto collo decidono di accettare il consiglio del loro manager vicepresidente Walter Carpenter che dice rivolgiamoci al nostro pubblicitario di fiducia e vediamo cosa dice è un'epoca in cui come sapete gli anni 30 stanno crescendo attività cosiddette si cominciano a chiamare così di public relations cioè attività che sono volte a migliorare l'immagine di un'impresa o di un'istituzione soprattutto delle imprese ecco e allora si rivolgono a questo pubblicitario che è il più importante pubblicitario dell'epoca quindi abbiamo una delle più importanti multinazionali e abbiamo il più importante pubblicitario dell'epoca si chiama Bruce Barton ed è un laureato in giornalismo i pubblicitari stanno diventando sempre più dei professionisti laureato in giornalismo avrebbe voluto fare molto probabilmente lo storico è figlio di un pastore metodista e nipote di un medico ecco è autore negli anni 20 di straordinarie campagne e Barton ha già lavorato e sta lavorando dai primi anni 30 per la DuPont per lanciare prodotti come questa è la la pellicola da fotografia e notate vedete questa frase better things for better living true chemistry cose migliori per la vita migliore attraverso la chimica questo è uno slogan inventato da Barton che dice noi dobbiamo persuadere la gente che questo è un modo migliore di vivere persuadere la gente che DuPont vende con il suo prodotto un modo migliore di vivere ecco quello che aveva sostenuto già Barton per loro cellophane di nuovo better things for better living true chemistry e vi ricordate la craft quando ero bambino diceva cose buone dal mondo e notate qui good things anche quella della craft cose buone dal mondo era un'idea di Barton quindi Barton ha già ha già lavorato sta già lavorando per la per la DuPont ecco e viene convocato e gli viene richiesto ma cosa possiamo fare per rimediare alla situazione Barton per prima cosa come tipico dell'epoca fa un'indagine di mercato e un sondaggio e il risultato è quello che mentre la General Electric e la General Motors hanno un favore presso il pubblico dell'80% la DuPont è al 20% al 20% scrive alla Mo DuPont e gli dice beh sta crescendo con le spinte isolazioniste pacifiste l'ostilità verso la guerra che è più forte e aggressiva oggi di quanto sia mai stata prima forse questa esteria forse una prova di decadenza nazionale sia quel che sia esiste questa gente pensa a voi DuPont come a quelli degli esplosivi associano DuPont al tema più impopolare che hanno in testa e il suggerimento di Barton che ho detto è un appassionato di storia è quello di usare uno strumento come la radio qui siamo in una casa decisamente popolare di Montgomery Alabama una famiglia bianca di lavoratori ma vedete che c'è la radio più di due terzi delle americane hanno la radio e Barton dice perché non lanciamo un programma radiofonico di natura storica cioè un programma che neutralizzi l'immagine negativa della DuPont presentandoci una carrellata di grandi episodi della storia statunitese associati a un codino finale nel quale ricorderemo che la DuPont è parte della storia americana è dal 1802 che produce per gli americani la DuPont dunque come benefattrice dell'umanità e dispensatrice di futuro attraverso la chimica punto d'arrivo della civiltà statunitense e mondiale la sua proposta viene accettata anche perché diceva Barton che il progetto si attagliava benissimo alla DuPont dice è una delle pochissime imprese che ha una storia così lunga quindi noi non facciamo altro che attraversare la storia degli Stati Uniti e poi in fondo richiamare la funzione benefica positiva della DuPont attraverso la chimica la scienza e al solito Barton cerca di evitare i toni troppo pacchiani troppo diretti per cui bisognerà aspettare la 141esima puntata perché si parli del capostipite fondatore della DuPont Eleutère DuPont allo stesso modo ingaggia dei consulenti storici uno è una figura minore ma un ottimo organizzatore un rettore di college che si chiama Dixon Ryan Fox e soprattutto l'altro è uno storico invece di grande prestigio probabilmente il più famoso storico degli Stati Uniti Arthur M. Schlesinger Sr il padre di quell'Arthur M. Schlesinger Jr che se ricordate diventa poi grande consigliore di John Fitzgerald Kennedy ecco tutto questo per coprirsi Schlesinger ha una fama di moderatamente progressista piuttosto vicino al New Deal può favorire anche discreti rapporti con le forze pacifiste e nell'idea di Barton tutto questo dovrebbe rendere possibile il successo del programma programma che come dicevo non pigia sul pedale dei DuPont o degli imprenditori almeno nell'immediato le prime 52 episodi sono solo 3 episodi in cui ci sono delle figure di imprenditori figure che comunque sono mischiati e dissolti in un universo di virtù condivise con il resto degli americani virtù come la volontà di conquistare distanze di ricostruire di condividere di esplorare o la perseveranza la capacità di afferrare le occasioni la fiducia in se stessi ed ecco che non a caso il primo programma la prima puntata è dedicata ecco questo è un documento molto raro questo è la sceneggiatura del primo programma vedete DuPont ecco è dedicato niente meno che ai puritani ai padri pellegrini e dice no turning back sono i padri pellegrini che arrivati al di là dell'Atlantico dicono non bisogna girarsi indietro bisogna andare avanti andare avanti esattamente come fa la scienza e infatti la questione della chimica ritorna sempre lo vediamo ad esempio in questa puntata del 1940 in cui si parla di Daniel Boone l'uomo della frontiera qualcuno di noi i più anziani ricordano il Daniel Boone dei film di Walt Disney degli anni 50 ecco Daniel Boone c'è la ricostruzione di Daniel Boone e alla fine si richiama però il fatto dell'importanza di grandi uomini di frontiera che hanno superato hanno aperto nuove frontiere della scienza e della tecnica come gli uomini della chimica e dunque i Dupont con l'immancabile better things for better living interessante in questa puntata non si spara un colpo di pistolo o di fucile nonostante che Daniel Boone ne facesse ampio uso perché? perché questo era uno dei temi di cui non si poteva parlare l'impresa esercitava un forte controllo sul programma che non mancò di far venire qualche mal di pancia al povero Arthur M. Schlesinger non si poteva parlare di vicende politiche soprattutto recenti non si poteva parlare di scioperi non si poteva parlare di esplosioni naturalmente ecco per cui le uniche esplosioni che si sentono sono in una puntata dedicata a Nobel perché come dicevo talvolta si supera nei confini degli Stati Uniti con grandi figure universali che viene ricordato come inventore della dinamite ma del quale si dice che la dinamite è servita soprattutto ad aprire strade nel cuore delle foreste a scavare tunnel nelle viscere delle montagne a costruire ponti su fiumi impetuosi 1940 però dicevo allora c'è un forte controllo non si sentono gli spari eccetera eccetera e tuttavia le cose stanno cambiando perché nel 1940 il clima del paese è cambiato dal 37 38 c'è stata una virata in direzione conservatrice dovuta da un lato alle forti tensioni che nell'opinione pubblica statunitense i venti che poi diventeranno venti di guerra ma che sono venti di rottura venti di tensioni internazionali producono quindi grande paura per questo per il mondo per come sta andando il mondo grande paura per il ritorno della recessione nel 1937 e poi crescente difficoltà di Roosevelt di tenere insieme questa sua coalizione che aveva alla destra questo terribile peso dei sudisti che cercavano di non farli passare nessuna riforma e naturalmente non che si toccassero in alcun modo i neri di neri peraltro non si parla assolutamente nel nel programma ma questo direi sostanzialmente in accordo con la visione prevalente storiografica dell'epoca per cui la guerra civile beh la guerra civile era stata tutto sommato uno scontro tra chi voleva il potere centrale più forte il nord e la difesa degli stati il sud di schiavitù si parlava pochissimo anche negli Stati Uniti e se ci pensate questa è una puntata nel 1940 al dicembre 39 c'è la grande prima di Via Colvento che un po' sintetizza questo la riconciliazione nazionale con il recupero del sud visto in questa maniera tutta magnolie e così via sulla schiena sulla pelle dei neri dicevo cambia il clima cambia anche perché con l'avvicinarsi di venti di guerra che arrivano addirittura che scoppiano nel frattempo la seconda guerra mondiale 40 e che poi arrivano a toccare anche gli Stati Uniti bene si produce nel clima di guerra una inaudita convergenza fra quello che rimane del New Deal che è decisamente poco e i grandi imprenditori inclusa la DuPont la DuPont in quel clima che ho detto 37-38 è riuscita sostanzialmente a sopravvivere approfittando del fatto che in quel clima la commissione Nye è svaporata è implosa su se stessa nel 41-42 DuPont è a fianco del governo nel grande sforzo di mobilitazione nazionale nel frattempo la MoDupont è andato in pensione per raggiunti i limiti di età lo ha sostituito col vicepresidente manager Carpenter che è un grande sostenitore di cavalcade e in genere della necessità di occuparsi di opinione pubblica e di migliorare la propria immagine e dunque ecco che cavalcade in questo clima vede cadere alcune barriere prima di tutto quella delle armi nel gennaio del 42 pensate a pochi giorni da Pearl Harbor e dall'ingresso in guerra degli Stati Uniti attaccati dal Giappone beh c'è una puntata nella quale per la prima volta si sentono degli spari è una puntata dedicata a Washington e al suo esercito durante la guerra di liberazione la guerra di indipendenza della rivoluzione americana e lì si sente uno sparo una settimana prima della puntata dalla quale siamo partiti e alla quale adesso torneremo si sono sentite addirittura delle bombe si è parlato della Londra sotto le bombe in cavalcade dove america e si sono sentite le bombe quindi cadono questi tabù e cade un po' anche il tabù rispetto alle persone che debbano essere coinvolte ovvero si comincia a pensare che visto che qui bisogna spaccare lettere visto che qui bisogna conquistare sempre più i cuori della gente beh si può fare anche qualche concessione sul piano sia di chi di coloro che si convocano per fargli scrivere i programmi sia degli attori ed ecco così che si finisce per assoldare Robert Sherwood che è il famoso drammaturgo che prepara una puntata dedicata a Lincoln cavalcade in totale ha dedicato ben 12 puntate a Lincoln ed ecco Miller Miller e Orson Welles ed ecco allora eccoci tornati adesso in conclusione alla puntata dalla quale siamo partiti abbiamo lasciato se ricordate Juarez che riceve gli ambasciatori delle potenze del vecchio mondo che chiedono la grazia per Massimiliano la puntata prosegue con la decisione di Juarez di non concedere la grazia Welles nel testo sovrapposto del narratore dice avete notato una democrazia gli Stati Uniti è stata l'unica che non ha mandato il proprio ambasciatore per chiedere la grazia per Massimiliano chiedere la grazia per un tiranno per una democrazia è prendere in giro se stessa prendere in giro il popolo la puntata si conclude con l'esecuzione di Massimiliano e con la testimonianza dell'ultimo sopravvissuto di quel plotone di esecuzione un messicano 80 centenne che dice io ero lì e sono orgoglioso di essere stato lì Miller ricorderà dicevo Welles non parla di questa sua esperienza molto breve fa solo sta puntata Miller ne ha fatte tre e ricorderà in seguito soprattutto nella corrispondenza ricorderà questa esperienza e dirà che era stata un'esperienza complicata dice l'ho fatto soprattutto per soldi devo dire la verità però puntate come quella lì su Juarez invece mi hanno in notevole misura soddisfatto perché mi ci identificavo perché il mio antifascismo contro Mussolini e Hitler in un qualche modo trovava un parallelo nell'azione antidespota di Juarez meno riuscita dirà Miller era invece una puntata che aveva dovuto scrivere su una famiglia di imprenditori e rispetto alla quale aveva dovuto cedere fortemente sotto le pressioni degli sponsor che volevano una agiografia ecco nel ricordo di Miller questa sua esperienza con Cavalcade of America è all'insegna la cifra è quella dell'ambiguità delle difficoltà della tensione e direi che è proprio in questo senso non era facile muoversi in tutto questo ecco è proprio questo direi qui in questa ambiguità in queste tensioni in questa difficoltà che sta credo la lezione di Cavalcade ancora per oggi perché parla le difficoltà che oggi viviamo nel costruire forme di storia per il grande pubblico entro l'ardua dialettica fra le spinte a rigore professionale degli storici ma anche le loro convinzioni ideologiche la crescente commercializzazione della sfera pubblica le onipresenti fake news le guerre di parole che si sono trasformate ahimè in guerra guerreggiata ecco in questo senso questo programma dimenticato parla ancora con forza a tutti noi ai nostri sforzi di costruire un passato plausibile e libero dai pregiudizi del passato stesso e del presente grazie 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 grazie